Scelgono la notte del mercoledì universitario per toccare con mano la Movida, Sergio Giordani e alcuni assessori della sua giunta. Prova del 9 per testare l'efficacia del progetto che partirà tra una settimana. Mi piace il signore, tranquilla, portello veloce, c'era tanta gente, però ricordo per l'esima volta, siamo in una città universitaria. Di conseguenza, tantissime ragazze, però gli ho visto educati, tranquilli, non c'era musica, non c'era... Sono stato fino all'uno di notte a girare con loro, devo dire che c'è un problema di pulizia, sì, è vero, ho già dato disposizione oggi, ho già parlato con la Sassolo per mettere dei contenitori appositi. Le immagini girate sui social testimoniano una situazione diversa. Questo è il portello dopo mezzanotte, il rumore dei bonghi, si sente bene, difficile dormire. Per cercare di salvaguardare le esigenze dei giovani di ritorno alla normalità e quelle di chi in queste zone vive, ecco la proposta, l'arrivo di 10 street tutors. Noi non vogliamo agire in via repressiva, lo vogliamo fare con una prevenzione e quindi questo progetto che partirà dalla prossima settimana e sarà in via sperimentale per due mesi, il mercoledì sera, il venerdì sera e il sabato sera, le nostre piazze saranno frequentate dagli street tutor all'interno di un progetto che è stato denominato Keep Calm and Enjoy Padova perché anche il titolo secondo me ha un suo indirizzo, stiamo tranquilli ma divertiamoci. Saranno al portello in Piazza dei Signori nelle serate di mercoledì, venerdì e sabato questi professionisti resi riconoscibili da una pettorina fosforescente che avranno il compito di ricordare il regolamento comunale invitando tutti al rispetto delle norme. Non saranno dei sostituti dell'ordine pubblico, assolutamente no, l'ordine pubblico è sempre demandato alla Questura e ai Carabinieri, sono dei professionisti della sicurezza urbana e è un progetto a cui noi crediamo moltissimo, ieri l'abbiamo portato all'attenzione del COSP, l'abbiamo portato all'attenzione del prefetto e del questore. Dal sindaco un invito. Toleranza rispetto agli altri penso sia una cosa giusta e determinante per vivere in una città tranquilla e pacifica come la nostra.